Era una scelta dovuta alla qualità dell'arbitro, non certo alla provenienza o alla residenza, che mi sembra siano discorsi veramente assurdi sentirli ancora fare. L'ultimo aveva avuto questo incidente che ci ha un pochino inquinato la giornata, però poi insomma i ragazzi stanno lavorando bene e ci sono giovani veramente interessanti che stanno crescendo bene. So quanto è difficile per un giovane esprimersi a questo livello, il nostro campionato è molto complesso, il che chiaramente favorisce la loro crescita, però li mette anche a dura prova. Al tempo stesso ho un gruppo di esperti, di internazionali che sono di altissimo livello, insomma credo Daniele Orsato ci abbia fatto fare un figurone al mondiale e il fatto di poterlo utilizzare in Italia per noi è orgoglio e anche sicurezza perché comunque hai uno dei migliori al mondo, sono i migliori al mondo nelle nostre file, insomma non è poco. Per quanto riguarda invece l'utilizzo del non-field review è abbassato, avete numeri a riguardo rispetto al passato, c'è più?